In parità 0-0 tra Trestina e Todi al termine di una gara certamente non esaltante. Per la formazione bianconera comunque un punto prezioso che serve ancora a scalare la classifica. La partita comincia con il Trestina in avanti. Il secondo minuto vede il calcio di punizione di Morvidoni. Il colpo di testa però è fuori misura, nessun pericolo per la retroguardia. Ancora Morvidoni ad insidiare la porta del Todi. La conclusione è di Polito ma il portiere Cozzi è attento. Al diciannovesimo tiro di Tascini per il Todi senza troppe pretese. Nicola Mancini par senza difficoltà. Ancora il Trestina pericoloso al ventitresimo. Un tiro cross che impegna il portiere Cozzi. Al venticinquesimo ancora il Trestina. Conclusione di Morvidoni. La palla che rimane lì e poi la seconda battuta di Antonelli che spedisce fuori di poco. Al trentaquattresimo punizione di Morelli. Ribattuta l'esterno di Romani per la porta del Trestina. Chiedono il calcio d'angolo ma per l'arbitro si può riprendere dal fondo al quarantatresimo sugli sviluppi del calcio d'angolo di Morvidoni. Ancora una misca con la palla che finisce tra le braccia del portiere. Nella ripresa al decimo minuto l'arbitro estrae prima il cartellino giallo per Ubaldi. Ubaldi convinto che ne avesse già avuto uno lo espelle e poi dopo le proteste dei giocatori della Todi e dopo essersi consultato con il suo assistente si rende conto l'arbitro che c'era solo un cartellino giallo e quindi il giocatore può rimanere in campo. Poi la conclusione di Mancini che anticipa tutti di testa e al trentacinquesimo c'è questo tiro cross che finisce sul palo si avventa Mancini sulla palla ma il gioco è fermo per una posizione di fuorigioco. E al quarantesimo l'occasione più ghiotta per il Trestina la bella sponda di Mancini ma si supera il portiere della Todi ed evita il gol. Finisce dunque 0-0 sentiamo il tecnico Enrico Cerbella.